Vorrete i due colleghi che l'hanno trovato, lo consegnate al proprietario. Le ringrazio sinceramente per il lavoro che avete fatto. È stato riconsegnato direttamente nelle mani della giocatore Rosso Nero l'orologio da circa 80.000 euro che gli era stato rubato a recuperarlo e ad arrestare i due rapinatori la postrada di Arezzo. Samu Castellieco era stato rapinato martedì pomeriggio attorno alle 18 a Milano in piazza Principessa Clotilde. Il calciatore milanista era stato avvicinato da due uomini che armati di pistola lo avevano minacciato facendosi consegnare il prezioso orologio. Stavo per andare al supermercato, tornando a casa, ho trovato questi due ragazzi che si avvicinano nella moto. Subito sapevo che mi volevano rubare e comunque quando ti mettono la pistola in faccia non puoi fare altro che aprire la porta e dare tutto. I banditi erano poi scappati su due scooter ma la loro fuga si è interrotta ad Arezzo. I due sono stati infatti fermati a bordo di un'auto dalla postrada nell'area di servizio di Badia Alpino lungo la 1. I poliziotti, insospettiti dal ricco curriculum criminale dei due, hanno infatti deciso di approfondire controlli. Dal bagagliaio è così saltato fuori un orologio dello stesso modello e marca di quello sottratto al giocatore del Milan, ben nascosto dentro ad una scarpa. Gli agenti hanno così contattato i colleghi della squadra mobile di Milano. Stavo facendo la denuncia e ho ricevuto la notifica del compagno che mi stava facendo la denuncia e niente, non l'aspettavo. Per i due malviventi, un 31enne ed un 42enne, entrambi residenti a Napoli, sono scattate le manette. Molto felice, molto felice, non solo per orologio perché hanno trovato dei ragazzi che alla fine sicuramente non era la prima volta che lo facevano, quindi molto felice. Grazie. Grazie. Grazie.